Ciao carissimi amici di Parole di Lana, ben ritrovati, spero siate tutti bene e spero che abbiate cominciato a dare un occhio ai post che sto lanciando sui miei social questi giorni. In particolare mi riferisco a un evento che avrà luogo a una settimana da oggi, giovedì 28 aprile ore 21, proprio qui da Parole di Lana. Faremo serata e insieme alle fate meravigliose delle arti possibili che hanno ideato questa iniziativa, creeremo con la lana, con le nostre mani, in questo piccolo tempio della lana, quindi per me il top, ma con un senso sia di condivisione, e quindi vi invito davvero a presenziare, naturalmente si potrà farlo online, e un senso di condivisione, dicevo un senso di creatività, un senso di arte, soprattutto arte, e infatti l'evento si intitola, non a caso, spazio all'arte, e qui di spazio ce lo inventeremo, perché il negozio è piccolo, ma diventerà grandissimo. Vi invito a inventare, giocare, ma soprattutto a pensare e realizzare arte con tutto il vostro cuore, perché poi alla fine è quello che bisogna mettere nelle cose per far sì che abbiano un valore, un valore che porti gioia a tutti. E vi aspetto, vi aspetto magari già muniti di lana, oppure venite a scoprire perché servirà la lana, che tipo di lana, che colori di lana soprattutto, e come potrete fare la vostra parte. Vi aspetto davvero, un caro abbraccio, a presto!